Ciao a tutti da Vittorio, oggi voglio fare un video diverso dal solido e smontare una teoria secondo cui Claudio Lotito è il padrone del calcio italiano. In questi giorni molti, soprattutto i tifosi della Roma, stanno dicendo che Lotito è il padrone del calcio italiano e la Lazio sta vincendo soprattutto per questo. Bene, in questo video vi dirò perché è assolutamente falso. Ciao a tutti da Vittorio, oggi parliamo di Claudio Lotito, ma prima se sei un tifoso della Lazio questo è il canale giusto per te perché ogni giorno caricherò un nuovo video sulla prima squadra della capitale, quindi clicca il bottone iscriviti e la campanella in modo tale che YouTube ti invierà una notifica ogni volta che caricherò un nuovo video. Parliamo di Claudio Lotito perché soprattutto adesso molti tifosi della Roma dicono che Lotito è il padrone del calcio italiano e la Lazio sta vincendo grazie al fatto che Lotito è il padrone del calcio italiano e questo aiuta la Lazio. Addirittura un giornalista della Roma, su un emittente locale di Roma, ha detto che addirittura Lotito ogni anno, l'estate, cambia il regolamento della Coppa Italia per favorire la vittoria della Lazio e Coppa Italia. Ricordiamo che l'anno scorso la Lazio ha giocato fuori casa contro l'Inter e poi il Milan. Calendario agevolissimo per la Lazio, ma pur di dire cavolate, pur di attaccare la Lazio, si fa questo e altro. La cosa divertente è che questa diceria è venuta dal nord perché? Perché Lotito veramente dà fastidio a qualcuno e dà fastidio al potere delle squadre del nord. Il calcio italiano è gestito o era gestito almeno da tre squadre, Juve, Inter e Milan, che controllavano il calcio e soprattutto prendevano le decisioni importanti. Perché Lotito dà fastidio e perché è uscita fuori questa diceria? Perché Lotito ha praticamente bloccato questi grandi club su la cosa più importante di tutti, i ricavi dei diritti televisivi. Perché le squadre italiane, ma in generale tutte le squadre del mondo, campano grazie ai diritti televisivi. Più soldi prendi dalle tv, più a cui si può fare quest'estate. E Juve, Inter e Milan volevano adottare il metodo spagnolo. Qual è il metodo spagnolo? In Spagna, Barcellona e Real Madrid prendono il 50% delle entrate dei diritti televisivi, gli altri club il restante 50%. Capite che in Spagna, Barcellona e Real Madrid possono spendere dieci volte di più di tutti gli altri club. In Inghilterra invece non è così. La spartizione dei diritti televisivi è molto più equilibrata. Juve, Inter e Milan volevano il modello spagnolo. Lotito ha spinto per quello inglese. E dov'è che Lotito ha fatto la differenza? Beh, Lotito è stato il primo presidente a coinvolgere i piccoli club. I piccoli club prima votavano di solito a favore dei grandi club perché magari la Juve gli prometteva un paio di giocatori in prestito a prezzi stracciati eccetera eccetera. Lotito invece ha riunito i piccoli club e gli ha detto ragazzi qua questa decisione vi punisce a voi, non solo a me. Li ha fatti ragionare e hanno votato compatti con Lotito. La Gazzetta Allsport che è un giornale del Nord e quindi difende quelle squadre ha più volte attaccato Lotito dicendo che è lui che gestisce il calcio italiano. Semplicemente perché ha fatto capire ai piccoli club che votare a favore di Juve, Inter e Milan sarebbe stato un danno contro di loro. Nient'altro. Qualcuno potrebbe dire è ma perché attaccano Lotito e non De Laurentiis o Pallotta? Beh, è facile. Pallotta a Roma non c'è mai. L'avete mai visto a un convegno a una riunione di Lega? No, non c'è mai. Pallotta è un presidente assente. E De Laurentiis litiga da solo. De Laurentiis è riuscito a litigare contro il comune di Napoli ed è l'unica squadra di Napoli. De Laurentiis non è riuscito mai a fare un fronte comune e quindi è considerato non un nemico perché non è in grado di opporsi al potere del Nord. Lotito invece a sorpresa è stato l'unico ed è per questo che dal Nord è uscita fuori questa diceria che Lotito è padrone del calcio. Vi faccio un esempio. Adriano Galliani, amministratore delegato del Milan, era allo stesso tempo presidente della Lega di Serie A e AD del Milan. Nessuno ha mai detto che il Milan comanda il calcio italiano in quel periodo. Perché? Perché alla Gazzetta e al Nord faceva piacere avere Galliani lì. Perché Galliani era uno dei loro, no? Faceva il bene dei club del Nord. Nonostante fosse presidente della Lega e AD del Milan. Conflitto di interessi mostruoso. Eppure la Gazzetta e gli altri giornali mai dissero che Galliani era il padrone del calcio italiano. Però lo è Lotito che non è mai stato presidente della Lega. Capite che c'è qualcosa di di chiaro, no? È evidente. Il grandi club del Nord, che hanno sempre gestito il calcio italiano, dà fastidio avere Lotito perché Lotito non è uno che sta zitto, non è uno come Pallotta che assente, non è uno come De Laurentiis che fa solo casino. No. Lotito è combattuto e ha avuto ragione, no? I diritti televisivi nuovi, la ripartizione è differente da quello che volevano Juve, Inter e Milan. E questo ha creato grossi problemi. E per questo, anzi, la Lazio è stata danneggiata dalle battaglie di Lotito perché poi i club del Nord gliel'hanno fatta pagare. Ma questo non vuol dire che Lotito è padrone del calcio italiano. Assolutamente no. E poi un esempio piuttosto evidente. Se Lotito fosse padrone del calcio italiano, ma la Lazio non avrebbe vinto qualche scudetto a questo periodo. Non solo, ma tre anni fa la Lazio uscì dalla Champions League, anzi non si qualificò per la Champions League in modo incredibile. Torti e abitrani clamorosi. Ricordiamoci tutti Lazio-Torino, rigore clamoroso, non concesso alla Lazio ed espulsione di Ciro Immobile. Se Lotito fosse stato il capo del calcio italiano, Giacomelli avrebbe dovuto smettere di arbitrare, no? Tutti i torti che ha fatto contro la Lazio, eppure Giacomelli è sempre là. Com'è? Ancora continua ad arbitrare in Serie A? Eppure, cavolo, Lotito è presidente della Serie A, è il capo del calcio italiano. Come mai che gli arbitri che sbagliano contro la Lazio sono sempre là? Semplice, perché Lotito non è il padrone del calcio italiano. La Lazio avrebbe vinto sette scudetti a posto da Juve se Lotito fosse stato il capo del calcio italiano, e invece non è successo. La Lazio sarebbe come minimo andato tutti gli anni in Champions League, e invece non è successo. Capite che queste sono dicerie per creare problemi a Claudio Lotito, che ha come unico torto quello di aver lottato contro il potere del Nord. Quello che non ha fatto Pallotta, quello che non ha fatto De Laurentiis, l'ha fatto Claudio Lotito. Per il bene del calcio italiano, eppure, giornali come la Gazzetta, non perdono l'occasione di criticare Lotito, anche sui diritti televisivi. Nonostante questi diritti televisivi faranno il bene del calcio italiano, perché rafforzare i UE, Inter e Milan aiuta tre squadre. Invece, dividere i diritti televisivi in base a tutte le squadre, in modo più eco, permette di avere un campionato più equilibrato. La Juve vuole la Super Champions League. Perché la vuole? Perché so più soldi per la Juve, non per il bene del calcio italiano. Anzi, questo distruggerebbe il calcio italiano. Eppure, la Gazzetta, per esempio, non si è mai schierata contro l'idea di Agnelli. Perché? Perché fa comodo. Potere del Nord, amici della Gazzetta, attacchiamo Claudio Lotito. Ecco, Claudio Lotito non è assolutamente il padrone del calcio italiano. Eppure, c'è gente che continua a dirlo. Perché fa comodo? Perché attaccare a Lazio fa bene, aiuta i poteri del Nord e, in fondo, nessuno può difendere Claudio Lotito. Perché anche se si difusi da Lazio odiano Claudio Lotito. Per cui, se io attacco Claudio Lotito, nessuno lo difenderà. Ed è una cosa facile, no? Claudio Lotito non è il padrone del calcio italiano. Claudio Lotito sta lottando contro poteri forti del Nord per dare più equilibrio al calcio italiano. E questo è tutto. Voi che ne dite? Scrivetevi commenti qua sotto e, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima.